Quello che è successo nel Tribunale di Como per il processo per i fatti di Ndranket Accantù ci ha spinti, ci ha convinti ad essere presenti come istituzioni durante le udienze del processo. La totale assenza delle istituzioni che non si sono costituite parte civile e la paura e il terrore dipinto negli occhi dei testimoni che piano piano stanno ritrattando le loro stesse testimonianze necessitavano di un segnale forte ed è per questo che noi istituzioni, la Commissione Antimafia, il Consiglio regionale ha deciso di essere presente da oggi fino alla fine del processo a tutte le udienze. È importante che siamo presenti durante le audizioni del processo questo soprattutto per dare appoggio a chi si è costituito parte civile e ai testimoni perché è soprattutto in questa fase che dobbiamo esserci. Oggi parte Non Lasciamoli Soli Un'iniziativa fortemente voluta dalla Commissione Antimafia e sostenuta dal Consiglio di Regione Lombardia Io ci sono 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 Grazie a tutti